Forza Giovanni, lavora, datti da fare, produce il tuo materiale. Forza Michelangelo, datti da fare, guadagna il tuo piccolo panino. Bravo. Avanti, forza! Cosa stiamo preparando noi, il negozio? Della maratona! Bravo. Della maratona! Della wii stessa! Della maratona, della wii stessa! Abbiamo quasi finito, fermazzini prima te. Grazie. Prima te. Ok. Abbiamo quasi finito. Finito! Grazie.